47 giorni dopo la caduta di Portimao 26 marzo Mark Marquez finalmente può tornare in pista venerdì 12 maggio saranno appunto passati 47 giorni da quella caduta e finalmente rivedremo Mark Marquez in pista ha avuto l'ok dai medici si sapeva che ieri martedì martedì 9 maggio avrebbe dovuto fare una visita di accertamento un ulteriore attack per verificare che il primo metacarpo della mano destra si fosse effettivamente rinsaldato così è fortunatamente e Mark Marquez potrà tornare in pista per il gran premio di Le Mans sicuramente una buona notizia per tutti gli appassionati di motociclismo Mark Marquez lo sapete aveva approvato aveva fatto di tutto per essere in pista a realezza della frontiera ma i medici gli avevano già detto in precedenza che ci sarebbero volute tra 6 e 8 settimane per il recupero ed effettivamente così è stato quindi Marquez ha dovuto rinunciare al gran premio di Spagna ma sarà in pista a Le Mans allora intanto ricordiamo una notizia che è stata è stata data ieri dalla FIM Mark Marquez non dovrà scontrare il doppio long lap penalty allora facciamo un altro passo indietro sempre al gran premio di Portogallo gran premio del Portogallo a Portimao Mark Marquez durante la gara aveva sbagliato completamente la valutazione in una curva abbattendo Olivera e colpendo Orge Martina e Marquez era stato punito con un doppio long lap penalty da scontare nel gran premio di Argentina allora uno sbaglio naturalmente perché nel gran premio di Argentina poi Mark Marquez non ci sarebbe stato per l'infortunio allora dopo era stato corretto dicendo che avrebbe dovuto disputare avrebbe dovuto scontare la penalità nel primo gran premio in cui sarebbe stato presente eh Onda ha fatto appello il bureau della FIM ha deciso e ha deciso che quel long lap penalty non debba essere scontato ecco sapete già la mia posizione io sono totalmente d'accordo con questa decisione dal punto di vista sportivo è sbagliato ma dal punto di vista giuridico è assolutamente giusto Onda ha fatto il suo dovere a fare reclamo e giustamente era stato era stato fatto uno sbaglio dagli Stuart Panets l'ennesimo sbaglio e quindi quella sanzione non debba non deve essere scontata io sono d'accordo su questa decisione allora eh alla fine del mondiale mancano sedici gran premi vuol dire che eh ci sono cinquecentonovantadue punti da assegnare ricordiamo che ogni gran premio vengono assegnati trentasette punti venticinque della gara della domenica e dodici della sprint Mark Marquez in questo momento ha sette punti in classifica contro gli ottantasette di Bagnaglia primo in campionato questo significa naturalmente che tra i due ci sono 80 punti di differenza Mark Marquez deve recuperare 80 punti e ha eh sedici gran premi per riuscirci questo significa che recuperando cinque punti a gran premio può annullare il margine che ha in questo momento rispetto a Bagnaglia primo in campionato e nettamente favorito per la conquista del titolo mondiale allora l'aritmetica dice che Mark Marquez è assolutamente in corsa per il titolo mondiale ripeto i punti da assegnare sono cinquecentonovantadue sono tantissimi e i punti da recuperare sono solo tra virgolette ottanta quindi uno come Mark Marquez ha assolutamente la possibilità e la capacità di recuperare quel eh quello svantaggio questo dice la l'aritmetica la pratica cosa dice la pratica dice che è un pochino più difficile perché Mark Marquez comunque eh rientra dopo un infortunio è difficile pensare che possa già essere al cento per cento che possa già fare la differenza che ha sempre fatto in tutta la sua carriera quindi questo il primo è il primo limite il secondo limite naturalmente è la competitività della Honda la Honda ha vinto alla grande ad Austin ma è affondata negli altri gran premi c'è salvata con lo stesso Marquez nella prima sprint ottenendo un podio ma a parte Austin negli altri gran premi gli altri piloti hanno faticato compreso Rins che appunto ha vinto ad Austin ma Airet è sparito completamente ecco quindi questo è il secondo aspetto da valutare la competitività della Honda in questo momento la Honda non è competitiva e nemmeno il miglior Marquez può pensare di vincere gare a ripetizione almeno questo è la mia opinione Marquez lo abbiamo visto faticare anche nel nel 2021 anche nel 2022 è vero che aveva sempre il problema dell'infortunio ma comunque nel 2021 ha vinto tre gare se non mi sbaglio era comunque spesso competitivo ma non era più il Marquez di prima allora che Marquez ci dobbiamo aspettare questa è un'altra incognita Marquez sarà ancora quello di prima sarà ancora quello disposto a tutto pur di arrivare al risultato per quello che abbiamo visto a Portimao viene da dire che è così che Marquez sarà ancora così ma a Portimao dopo aver preso grandi rischi poi si è fatto male un'altra volta è stato costretto a saltare altri tre gran premi dopo tutti quelli che aveva dovuto saltare in precedenza per l'infortunio alla spalla eccetera eccetera ecco è naturale porsi il dubbio Marquez non sarà più aggressivo come lo era prima o lo sarà ancora ecco io credo credo che non si possa sapere la risposta perlomeno io non la so in questo periodo ho quasi sbagliato tutti i pronostici su Marquez sinceramente io mi aspetto sempre un Marquez molto molto competitivo molto bravo molto veloce molto disposto a prendere dei rischi e questa però è un'altra variabile che potremo verificare soltanto in pista quindi in definitiva ripetiamo 80 punti da recuperare 5 punti a gran premio se li dividiamo per gli 80 punti per i 16 gran premi che ancora rimangono 592 punti da assegnare Marquez ha ancora tutte le possibilità per tornare in corsa per il titolo ma secondo me questa volta sarà molto molto difficile è questa la notizia in prima fila di oggi io sono lo zam vorrei sapere la vostra opinione grazie a tutti